Silvia Polidori, ingegnere, consulente ed imprenditrice di Città di Castello, è la nuova presidente del Festival delle Nazioni. Polidori, disegnata dal Comune, è stata nominata all'unanimità insieme con il nuovo Consiglio di Amministrazione durante l'ultima seduta dell'Assemblea dei Soci, che si è tenuta venerdì nelle sale della Fattoria Autonoma Tabacchi a Città di Castello. Inizialmente no, è stata una sorpresa, poi ci ho ragionato, approfondito anche del perché sono stata proposta, forse per la competenza, l'attitudine e soprattutto per l'amore per la nostra terra. È una terra con delle radici importanti, con una storia importante, una cultura altrettanto importante ed è per questo che sono onorata per chi ha riposto fiducia in me. Io presto quello che è il mio contributo a questa importante di pregio manifestazione e insieme a tutto il resto del Consiglio di Amministrazione, insieme a tutte le parti interessate, insieme a chi vorrà contribuire con equilibrio, con ascolto a quello che è lo scopo del Festival delle Nazioni, ovvero quello di tutelare prima di tutto, di sviluppare e di valorizzare quello che è la cultura della nostra terra in Italia e nel mondo. Per la carica di Vice Presidente è stato nominato Rodolfo Pambianco, eletto anche lui all'unanimità. Per le cariche dei consiglieri sono stati nominati Beatrice Cardinali, su proposta dei Comuni Tifernate, Roberto Cuccolini e Marcello Marini, su proposta della Regione, Alessio Tommasucci ed Elena Gambuli, su proposta dei soci ordinari dell'Associazione Festival. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti con approvazione unanime dall'Assemblea. Grazie.